Sono affetta da mielofibrosi secondari a policitemia vera, GEC2 positiva. Sono in terapia con Giacavi. Mutazione ASXL1 più EZH2 più GEC2 positiva. Sono in attesa di trapianto, ma non ho ancora trovato il donatore pur essendo la sesta figlia. Vorrei capire perché si parla così poco dell'approccio terapeutico del trapianto e delle difficoltà che ci sono. La strategia del trapianto, come avete visto, è indicata in pazienti in cui effettivamente la malattia è molto avanzata. Quindi se la malattia non è avanzata, essendo il rischio comunque associato al trapianto, cioè di mortalità associata al trapianto abbastanza elevato, è ovvio, come si diceva prima, è una bilancia, cercare sempre il rischio e il beneficio di un trattamento. Se faccio il trapianto troppo presto creerei un danno al paziente. Quindi non è che se ne parla subito, se ne parla quando c'è un'indicazione legata alla fase, allo stadio più avanzato di malattia. La sfortuna, essendo la sesta figlia, di non trovare un donatore in ambito familiare, penso sia stato anche valutato la possibilità di fare un aplo identico, che anche c'è la possibilità di avere una compatibilità del 50% con un familiare, che sia stata valutata e che a volte permette di identificare dei donatori comunque papabili per questo tipo di procedura. Altrimenti, come penso saprà la paziente, esiste un registro a livello internazionale che soprattutto per la nostra razza ci permette di avere con buona probabilità l'identificazione di un donatore.